Ecco, ci troviamo all'ospedale Fornaroli di Magente insieme al direttore sanitario dottor Massimo Lombardo. Ecco, voi in questi giorni avete preso il provvedimento di licenziamento nei confronti di un medico. Vuole spiegarci per quale motivazione? Sì, innanzitutto questa decisione è stata presa nell'ambito di una serie di controlli istituzionali che noi facciamo sui titoli di tutti i nostri professionisti, medici e infermieri e che sono partiti dal 2009. Abbiamo verificato gli ospedali di Legnano, di Cugiono e di Abbiategrasso e stiamo completando l'ospedale di Magenta. All'interno di questi controlli per la verifica dei requisiti di accreditamento c'è stata una discrepanza, un'anomalia relativa a un certificato di iscrizione all'ordine professionale di un medico e l'ordine da noi interpellato formalmente ci ha risposto che quel certificato di iscrizione era non veritiero e che non c'era nessuna iscrizione a quel nome. A questo punto abbiamo dovuto prendere i provvedimenti obbligatori perché l'iscrizione all'ordine è uno dei requisiti per l'assunzione in ospedale quindi abbiamo fatto subito la sospensione del cartellare nel giro di pochi giorni siamo arrivati al licenziamento e abbiamo poi mandato tutta la pratica alla procura della Repubblica. Va bene, grazie. Dall'ospedale Fornaroli è tutto. Grazie a voi la linea.